buongiorno a tutti siamo alla casa della chiave grande novità alla casa della chiave riusciamo a fare telecomandi non originali compatibili risparmiando quasi 100 euro adesso l'abbiamo già precodificato tutto pronto è solo assembliamo e andiamo a vedere se effettivamente funziona quasi pronta è alla casa della chiave si risparmia 100 euro confronto alistino originale della concessionaria ok la istruzione 10 adesso proviamo se la chiave che abbiamo fatto funziona le luci si accendono andiamo a vedere se vediamo se funziona l'accensione questa è la chiave duplicata con quasi 100 euro in meno confronto alla questionaria vediamo vediamo un po se funziona benissimo comando perfetto allora casa della chiave milano via gluck 1 e poi siamo anche inviare abruzzi 92 la nuova